Buongiorno, siamo a Villa Petriolo, forse siamo a metà della vendemmia. Oggi abbiamo organizzato una baby vendemmia per i nostri piccoli amici vendemmiatori, seguiti e guidati da Federico, che vedete, con suo figlio Michele, che è la sua prima vendemmia, no? Federico e Michele. La sua prima vendemmia. E gli altri nostri piccoli vendemmiatori sono Navinia, che è la mia bambina, Angelica, che è la sorellina di Michele e figlia di Federico. E poi abbiamo Keno, che è il figlioletto di Andrea Gori, della trattoria Burde di Firenze, famosissimo blogger, conoscitore, divino, grandissimo, quindi un grande figlio d'arte, con i suoi cuginetti, che sono Tessa e Forese. Una conchiglia! Abbiamo un'altra bambina, che è una bambina del paese, di Cerefo Guidi, anche lei figlia d'arte. Una volta c'era il mare! C'era il mare, qua, è vero. Siamo pieni di conchiglie nei nostri vigneti, è vero che una volta qua c'era il mare. Abbiamo anche Ginevra, che è una bambina del paese, anche lei figlia d'arte, perché il nonno ha questo vigneto di un ettaro, però lei non aveva mai fatto una vendemmia e oggi, quindi anche lei, è venuta ad aiutarci per questo. Accompagniamo ora i nostri vendemmiatori. Naturalmente la vendemmia è vera, quindi si dovranno portare le ceste su, riportarle giù, portarle in cantina, e poi ci sarà tutto il seguito della cernita, dell'uva, della pigiatura, fino a una piccola merenda, molto tradizionale, a base di pane, zucchero e vino.